Salve unici passati di Football Manager, qui con me come sempre c'è il Mike 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di un nuovo Football Manager 2020 con il nostro mitico Gianluca Grava e l'Aston Villa E oggi andremo a vedere le partite con il Manchester City, poi con il Tottenham e il Southampton Così finiamo febbraio e marzo Visto che sono tre partite direi di andare subito a bomba a vedere la prima Che ci vede contro una squadra devastante Una delle squadre migliori qui in Premier League che hanno preso addirittura Harry Kane Minchia, noi giochiamo praticamente con la titolarissima C'è in più però l'esordio di Vasquez Ci voleva un giocatore di grande esperienza, un giocatore veramente forte lì a destra Speriamo che possa fare veramente bene Non sarà facile ragazzi, ripeto, è sicuramente una delle squadre più forti qui in Premier League Noi siamo una squadra che è a stento Può puntare alla metà classifica, quindi vediamo un po' Di fare un miracolo C'è Foyt, Mings, Phillips, Foyt, Mings, Vasquez, c'è Phillips La passa Wesley, Wesley si accenta C'è Otamendi che sbaglia completamente ma c'è anche Henderson che fa veramente una bella parata 0-0 Quintero, Quintero, Quintero ha calcio d'angro cross al centro, c'è la parata di Henderson Bello, bello, bell'inizio da parte di questa Stonville, il raccio di Otamendi Il City non sta giocando proprio con la difesa titolare, però ovviamente è meglio per noi Si era un attimo impallato il gioco, comunque c'è Paceco Paceco, Paceco la passa a Foyt, Foyt per Phillips, Phillips per McGinn Quintero, ancora Wesley, Wesley però viene fermato in questo caso Però c'è Grealish, qui la poteva passare a Wesley e potevamo fare uno dei gol più brutti ma anche facili Facili, è stato molto molto egoista Ma vediamo, intanto arriva il gol di Vasquez Grandissimi, grandissimi 1-0 contro il Manchester City Bene così 15 minuti ragazzi, di fuoco di questa Stonville Sono contento per Vasquez Gol all'esordio, gol pesante Per un giocatore di grande esperienza Che non aveva ancora trovato spazio anche perché era leggermente infortunato Però adesso c'è e vuole giocare titolare Anche perché l'abbiamo preso apposta, o meglio, Real Madrid ce l'ha dato apposta per farlo giocare Intanto c'è Kintero, c'è Grealish Mamma mia ragazzi, che botta Poi prende la traversa E siamo ancora sull'1-0 Mancano 5 minuti E poi anche tutto il secondo tempo Dai ragazzi, cerchiamo di resistere Non voglio mettere difensiva ragazzi Perché sta giocando bene la squadra Sta attaccando Non si sta facendo spaventare da questo City Che un po' forse ci aveva sottovalutato Mettendo DC, Cotamendi Che di certo non sono proprio i titolari Però vabbè, manca a dirlo Subito gol di Sané Ok, non ci ha sottovalutato Peccato 1-0 pari Peccato Ero già pronto a vivere un sogno Anche se sapevo benissimo Che mancava ancora un tempo Purtroppo Sané ci ha fatto scendere Con i piedi per terra Intanto già tre cambi Da parte di Pep Guardiola C'è Mings McGinn Wesley Wesley dall'altra parte per Grealish Bellissimo il passaggio Grealish forse cerca il cross al centro Non c'è perché Savic Lo marca Però qui erroraccio della difesa Mamma mia ragazzi Due errori pesanti Da parte Dei difensori centrali Del City In questo caso però per fortuna Siamo riusciti ad approfittarne Savic Qui la passa a Marez Marez Ah no, Marez non difensore Scusatemi E bravo qui Wesley Che è riuscito a approfittarne Io non faccio cambi Anche se so che dovrei farne Ma Non so neanche se metterle un po' più difensivi Mettiamo Tavernier Anche se è bello offensivo Mettiamo Badel Anche perché È ammonito il nostro centrocampista Vediamo un po' cosa fare No Mings Non voglio di azioni Intanto c'è Wesley Wesley ancora chiudila Ma questa difesa del City Probabilmente ha qualche problema Si fa bucare sempre per via centrali Ovviamente è meglio per noi Quintero La cross al centro C'è Stones Phillips Marez Potremmo fare l'ultimo cambio 87esimo Asamoah C'è Wesley No raga Che si è mangiato Wesley ancora si è mangiato Un gol facilissimo Mancano 4 minuti Ancora Quintero Cross al centro C'è Foyt No raga 3 a 1 contro il City Che Aston Villa Complimenti ai ragazzi Complimenti vivissimi Porca miseria Cross al centro di Quintero Foyt Bello bello 3 a 1 Grandi ragazzi Anche se però adesso il City attacca con De Bruyne C'è Foyt che la spara Via Poi c'è contro piede con Quintero C'è Wesley Wesley al centro Adesso però la difesa del City Ritorna C'è Samualla Passa Wesley Viene fermato Ottimamente da Stones Forse ancora errore difensivo Purtroppo no C'è Otamendi Zicinco Zicinco Dove facciamo un cambio Perché non perdere tempo Bravo qui Il nostro Phillips Wesley Bello lo stop C'è Phillips La passa a Grelic Tutto solo Non sbagliare Chiudi là Vabbè anche se già stiamo sul 3 a 1 Savic Credo che quella sia l'azione pericolosa Invece no Attacca il City C'è Jesus Jesus Bernardo Bernardo ancora il City Che attacca Speriamo non sia nulla di fatto È una partita di tennis Miss Vasquez Fallo di Rodrigo Facciamo un altro cambio Giusto per perdere tempo Mettiamo Lanzini E chiudiamola qui Grandi ragazzi 3 a 1 Complimenti veramente Ottimo inizio di episodio Sono veramente felicissimo di loro Come già vi ho detto Vi ho saltato tre partite Abbiamo battuto il Crystal Palace 4 a 1 Poi calci di rigore Abbiamo passato il turno Di FI Cup Contro i Derby E poi 1 a 1 Contro i Wolves Questo credo che sia un piccolo bug Perché non credo che andremo a giocare Nello stesso orario Due partite con la stessa squadra Comunque direi di andare subito a bomba A vedere la partita contro il Tottenham Ritorna a titolare Sanchez Il trio chintero Grealish Sanchez Intanto c'è Ruben Arriva subito il gol di Ruben Dias Dopo neanche 5 minuti Porca miseria Non proprio il massimo Vabbè Siamo comunque contro il Tottenham Squadra che è sesta in classifica Noi siamo Tredicesimi Comunque il Tottenham Come il Manchester City È una delle migliori squadre Qui in Premier League Quindi insomma Non è una partita molto molto semplice Intanto c'è Dele Alli Che però per fortuna non riesce A trovare il tapin vincente Certo il Tottenham Ha perso un giocatore importante Come Harry Kane Ma sicuramente rimane sempre Una squadra molto interessante Poi ha preso anche James Rodriguez Trequartista veramente importante Per questa squadra Intanto c'è James Arriva il gol di Edward Il sostituto di Harry Kane Adesso vorrei andarlo a vedere Quindicesima rete stagionale Purtroppo per noi Una anche nella nostra porta Beh l'attaccante Di certo non è Harry Kane Ma è sicuramente Un valido giocatore 23 anni Tutto il tempo per crescere È buon per loro Ovviamente anche noi Ci abbiamo i nostri giovani Anche noi ci abbiamo Giocatori importanti Un po' meno rispetto al Tottenham Però insomma Il nostro lo stiamo facendo Da quasi l'ultima posizione Di classifica Comunque stiamo portando Questa Stoneville Alla metà Della classifica Quindi direi che stiamo Facendo un buon lavoro Nonostante qualche passo falso Come questo qui Con il Tottenham La partita ovviamente Non è ancora chiusa C'è ancora spazio A un miracolo Infatti arriva 2-1 Gol di Wesley Diciassettesima rete stagionale E abbiamo circa 60 minuti 65 per trovare E provare a cercare il pareggio Non sarà facile Anche perché veniamo Da un filotto di due partite Non proprio brillanti Pareggio col Derby E pareggio col Wolves Però insomma Contro le Big Stiamo dimostrando di Poter dire a volte anche la nostra Ecco Ovviamente possiamo perdere Ovviamente Ci possono essere dei passi falsi Partite dove ci distruggono Però L'importante è comunque Non avere periodi Completamente Bui Intanto arriva il gol Di Tauvin Quinta rete stagionale 3-1 Questo ovviamente Ci rende le cose Un po' più difficili Due gol Non sono poi così facili Da recuperare Peccato Dovamo Trovare Quel guizzo Subito dopo il gol di Wesley Guizzo che però purtroppo Ha trovato il Tottenham Certo a Tauvin Delle ali Sulla destra Mi ricordo Delle ali Comprato Nella carriera con Marek Iankulowski Al Torino Per ben 200 milioni Comunque 3-1 Ancora il Tottenham Che stava Quasi per trovare Il gol del Quarto a 1 Quarto a 1 Quattro a 1 Mi sa che è anche l'ora Di fare qualche cambio Cioè Mi aspettavo Qualcosina in più Da Sanchez Però sta facendo Se più che altro È stanco Quintero Però non lo vorrei togliere Perché non lo sta facendo Poi così male Mettiamo Basquets Poi mettiamo Tavernier E vediamo un po' Cosa Succede Proviamo Molto offensiva Anche se Riuschiamo poi Di prendere altri Gol dal Tottenham Tanto perde 3-1 Perde 4-1 Non è che ci cambia Tanto C'è Samuas Dimostra appunto Di non essere Proprio Harry Kane Sicuramente Un giocatore Importante Ma non è Harry Kane Attualmente Sicuramente Finita la partita Ragazzi Purtroppo Ci sta La sconfitta Ed è anche Arrivata Speriamo di fare Sicuramente Meglio Contro Il Southampton La partita Contro il Southampton È stata Sostituita Dalla partita Di FI Cup Contro il Manchester United Quindi oggi Andiamo a sfilare In questo episodio Le due di Manchester Per fortuna Almeno il City L'abbiamo battuto Perché Dopo la sconfitta Col Tottenham Non ho grandi Aspettative In questa partita Però noi Come esempio Cerchiamo di Dare il massimo Anche perché vedo Che l'United Non sta giocando Proprio con La squadra Titolarissima Certo Hanno grandissimi Giocatori Vediamo un po' Noi giochiamo Un po' C'è Qua Samua Verdaska Minks Gilbert McGinn Philippe Sanchez Grealish Basquets E Wesley Ovviamente ragazzi Foyt Non poteva giocare Né quella col Tottenham Né questa Tottenham Perché Diciamo La squadra Che ha il suo cartellino E in questo caso Essendo una Partita di coppa Foyt Non la può giocare Visto che Se ho capito bene Ha già giocato In FI Cup Con il Tottenham Quindi Nisba Arriva pure Il goal Di Greenwood Periodo bruttarello Per questo Aston Villa Certo ragazzi Stiamo andando anche A sfidare Le tre Squadre Migliori Insieme ovviamente Anche all'Arsenal All'Iverpool Quindi Non mi aspetto Miracoli Intanto c'è Anche Sanchez Che è l'ex di turno Intanto c'è Bissacca Che ha Il NOS Tipo Ripeto Non mi aspetto Miracoli Sicuramente Prestazioni Decenti Anche se Adesso Rashford Ci fa Il 2 a 0 Male male Questo Aston Villa Adesso Siamo stati anche Abbastanza sfigati Aver preso subito L'United Considerando che C'è una squadra Come ad esempio Il Fulham Lo Sheffield United Ma Come in Champions League Prima o poi Le Big Vanno incontrate Quindi Alla fine Possiamo dire In caso di eliminazione Che possiamo Concentrarci Poi solamente Sul campionato Campionato che comunque Sta andando abbastanza bene Nonostante La sconfitta Con il Tottenham Perché E il Barmout Anche Perché siamo Tredicesimi E Siamo comunque Al di fuori Della Della zona Retrocessione Quello che Che conta Non era un obiettivo All'FI Cup Poi ragazzi Se incontri L'United Non puoi sperare Di passare Troppo facilmente Sicuramente Potevamo fare Un miracolo Ma in questo episodio Il miracolo natalizio Già c'è stato Con il 3 a 1 Contro il City Quindi Non posso chiedere Troppo A questa squadra Anche perché Insomma Ripeto Sono le tre squadre Più forti C'è Tre Delle squadre Più forti In Premier Quindi Diciamo che Va bene così Dovrebbe finire Questo primo tempo A meno che Ci sia una nostra azione C'è Wesley Che la spara indietro Per Sanchez Mancano 40 secondi Alla fine del primo tempo C'è McGinn La passa Baskets Che tenta Che tenta Un gol Incredibile Purtroppo Questo gol Non arriva Statistica La mano Vede Un buon Aston Villa Sicuramente Ma sicuramente Il United È più forte Più cinico E quindi E quindi Niente Speriamo Un secondo tempo Migliore Anche se Adesso Lunated Attacca E sfiora Il terzo gol Dai ragazzi Cerchiamo di far qualcosa Sicuramente C'abbiamo L'handicap Che non c'è Foyt Lì davanti Sto ancora Un po' Sperimentando Però Non C'è Kintero Che è forte Vaskets Che è forte Kledis Che è forte Sanchez Che è forte Quindi Non c'ho Ancora In testa Titolari Inamovibili Lì davanti Quindi li sto facendo Un po' Ruotare Intanto c'è Gilbert Gilbert Sulla destra Cerca il cross Al centro Non c'è il tap in Di Wesley Però Errore Dell United Arriva il gol La seconda Rete Di Vaskets Bene così Bene così Comunque un gol Che porta morale La squadra Sicuramente Erroraccio Di Draxler Qui Wesley È stato bravo A non essere Egoista Ma soprattutto Vaskets È stato incredibile Perché Ha tirato Una bordata Che ha sfondato Praticamente La porta 2 a 1 E a questo punto Proviamo Il tutto per tutto Proviamo ad attaccare Come se non ci fosse Un domani Infatti Mettiamo molto Offensiva Lo so che ha atteso Tanto per i cambi Ragazzi Ma la squadra La squadra resiste E quindi Stavamo in un buon momento Fra adesso i cambi Non è proprio facile Intanto c'è Greilich Che si accentra Ha tentato la botta Con l'esterno Ma Purtroppo Non gli è riuscita Allora io direi Di mettere Kintero Mettiamo Badel E Non lo so Potremmo mettere Calleri Ma C'è L'United Che attacca Con De Luffeo Milik Ma quanti cacchio Giocatori c'ha L'United C'è Milik De Luffeo Che è un bel giocatorino Qua su FM Ovviamente lo conosco Essendo anche milanista A volte un po' Lo rimpiango C'è De Luffeo De Luffeo Tutto solo Bravo Qui Paceco Ancora Paceco Bravo 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 Sono contento di te Volevo Effettivamente fare L'ultimo cambio E mettere Calleri Poi non l'ho più fatto Perché Non lo so ragazzi Avremmo potuto provare Ancora di più Ad attaccare Ma Quest'United Poi si è chiuso Abbastanza bene Adesso anzi C'è Milik In contropiede Fa il 3 a 1 Chiude la partita Ragazzi Quando Ci sono queste squadre Che hanno addirittura Gente come Milik E De Luffeo In panchina Noi poco Possiamo fare Se non essere Comunque abbastanza Contenti Del gol Che abbiamo fatto E comunque Di aver giocato Una partita Abbastanza Dignitosa Dopo queste due Sconfitte Direi che ci possiamo Salutare E qui nel prossimo episodio Andremo a vedere Mi sa Una partita Fra Everton Southampton E poi Ovviamente Chelsea E Liverpool Ho deciso di farmi male In due episodi City Tottenham United Chelsea E Liverpool Bene così Detto questo Direi che ci possiamo Salutare Qui Come sempre Lasciate like Commentate Condividete Iscrivete Fate tutto ciò che vi pare Grazie sempre per tutto Come sempre Un saluto a me Con l'altro Quattro E anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi Ciao ragazzi